... Finalmente l'Acus, primo giorno, oggi, domani e dopodomani, una tre giorni per scoprire questo meraviglioso territorio, la cultura di questo territorio, le peculiarità, l'enogastronomia, le mamme dei vicoli, videomapping, mi fermo perché staremmo qui tantissimo tempo. Venite a trovarci a Lesina, sapremo ospitarvi e accogliervi come sappiamo fare per godere insieme di questo spettacolo della natura. Il Parco Nazionale del Gargano accompagna con il suo patrocinio questa iniziativa perché è un progetto di sistema. Per la prima volta, può dirsi, si mettono a sistema due comuni, i più importanti comuni che si affacciano sulle due lagune, i laghi costieri, tra i più importanti d'Italia. Naturalmente l'obiettivo è quello di andare ad aggregare tutti i comuni riviraschi per far sì che in questo evento possa andarsi a realizzare intanto un aspetto di identità da parte delle comunità locali ma anche un momento di consapevolezza e promozione di tutto ciò che attorno a queste lagune si verifica. Parte la manifestazione di Lagus, l'unione dei due laghi, Lesina e Varano. Idealmente uniamo questo territorio, ma non solo idealmente perché il programma è veramente ricco e parte da Lesina ma raggiungerà Varano entro il 9, l'evento si chiude il 10 con una serie di attività che promuovono il territorio attraverso l'enogastronomia ma anche i racconti del luogo. Quindi l'incontro che ci sarà a Lesina con il lago Racconta dove i pescatori porteranno le loro storie e anche le loro leggende. Varano ci saranno laboratori con dimostrazione di come si intrecciano i cesti, anche show cooking. Ci saranno le mamme dei vicoli a Lesina che racconteranno attraverso le ricette ma anche i racconti di diverse generazioni, quindi le mamme e le nonne trasferendolo alle nuove generazioni. E poi c'è ovviamente il mercatino con tutti i prodotti di eccellenza dell'enogastronomia locale.